Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il nuovo pacco della Citroen 2 cavalli Charleston. Vi leggo subito qualche informazione, la spedizione è la numero 18, all'interno trovo cinque numeri dal 71 al numero 75 e purtroppo anche l'aumento che mi era stato appunto, diciamo, non mi viene la parola, ero comunque già stato informato, vi ricordate, con quel ciclo stilato che vi avevo fatto vedere dove appunto vi era scritto che ci sarebbe stato un aumento di un euro a fascicolo e infatti invece di 54,95 euro la somma da corrispondere per questo invio di cinque numeri è 59,95, ma aumenta tutto. Eccoli qui. Andiamo adesso, io insieme a voi, a guardare quello che è il contenuto del fascicolo. Se avete piacere io cercherò di soffermarmi su tutto quanto è il fotografico e lo scritto per consentire a tutti coloro i quali mi avessero piacere di poter, oltre che guardare le immagini, leggere. Così quando poi andrò a fare i video dedicati proprio al solo montaggio saremo più veloci e saremo perché voi siete la vita del canale e fate parte anche del canale ovviamente, quindi uso questa forma plurale, non è un errore, è una cosa che a volte mi viene ed è per me piacevole. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi, siete voi che contribuite a dar vita al canale e io di questo vi volevo ringraziare con tutto il cuore. Alle persone che invece non sono ancora iscritte ma che mi visualizzano, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potete trovare altri modelli e non solo di auto. Qui intanto abbiamo la seconda di copertina che si ripete ad ogni collezione che deciderete di intraprendere con i numeri utili ai servizi e qui guardate le informazioni che ci danno, sono veramente molto ricche. Infine per concludere il messaggio iniziale che se ci fosse qualcuno interessato a farsi montare il modello mi contatti privatamente, grazie. Anche questa è una collezione molto ricca di informazioni sia fotografiche che scritte. Io vi esorto a leggerle e non soltanto a montare il modello perché la storia fa parte della vita del modello. E qui si parla proprio di tutto, di quello che concerne la Citroen ovviamente, non soltanto della Charleston. Questo poi andremo a vederlo dopo. E' un modello, per chi ama questo genere di auto, iconico e fatto veramente bene. Molto dettagliato. ci sono ovviamente purtroppo possibili difetti di verniciatura perché a mio parere non esiste assolutamente un controllo qualità perché qui fare un controllo a campione, cioè un pezzo ogni mille o ogni cento non ha senso, andrebbero controllati tutti. O quantomeno avere un sistema di verniciatura perfetto dove non ci sono queste problematiche. Però bisogna anche dire che seppur è molto fastidioso, almeno per quanto mi riguarda, ogni volta che capita fare le foto, mandare l'email, attendere il pezzo che ti torni, che te lo mandano gratuitamente. Ovviamente se avete l'abbonamento non dovete neanche dare indietro il pezzo con difetto. Ecco, seppur dico è una cosa che dà fastidio dover fare tutto questo iter, devo anche dire che la De Agostini non mi ha mai creato problemi. Mi ha sempre mandato il pezzo in sostituzione del pezzo danneggiato o fallato. Andiamo a vedere il 71. Eccolo qui. all'interno troviamo la copertura che è il rivestimento interno del cofano motore, quello anteriore. Voglio farvi vedere, spero di riuscirci, perché è veramente fatto bene. Forse così ho messo troppo troppa luce. Ecco, guardate. Verniciato benissimo, mi piace molto. È in plastica. È una serie di viti EM che ovviamente saranno quelle che andranno poi a fissare il rivestimento interno al cofano anteriore. Da avvitare nel metallo e qui io mi avvarrò di un lubrificante. Chi mi segue lo sa. Bene, questo lo abbiamo visto. Passiamo al numero 72. Vi volevo anche ringraziare perché sto arrivando a 4.400 iscritti. Ci manca ancora qualche decina di iscritti. Però ci sto arrivando. Ma la cosa più importante è che sto raggiungendo il milione di visualizzazioni totali. Grazie a tutti. Se il video non sarà diventato troppo lungo, alla fine, prima di salutarci, vi farò vedere il punto in cui sono arrivato con il montaggio numero 70. Diversamente, sapete che io ad ogni sessione di montaggio ho sempre il piacere di far vedere il punto in cui sono arrivato. Qui abbiamo un unico pezzo, il parabrezza. Vedete? Io amo far vedere tutto di una collezione. Come vi ho detto prima, tutto è importante. Se avete piacere, scriveteli anche sui gruppi Facebook dove ci possiamo dare consigli e dove possono anche nascere amicizie. Vediamo se riesco a ingrandire quello che c'è scritto qua sotto. Abbiamo finito anche questo fascicolo numero 72. parabrezza. Qui con il fondo bianco si vedrà poco. guardate, io non riesco a leggere cosa c'è scritto, tanto che è scritto in piccolo, però è scritto sicuramente molto bene. Vediamo un po' ingrandendo se si riesce a vedere qualcosa. provo, eh. Provo a ingrandire ancora un po', ma c'è scritto importante, vediamo. ecco. volevo provare a leggere. Vi ho fatto vedere un po' le lingue che sono presenti. guardate che magnificenza questo particolare. Cambio olio motore. Un attimo. Leggo i 10.000 chilometri. Ecco lì, ogni 10.000 chilometri. Allora, importante, cambio olio motore. Ogni 10.000 chilometri è consigliato verificare il livello dell'olio tra i vari cambi dell'olio è importante verificarlo, ma vi rendete conto che riproduzione. Vi sconsiglio di metterci le dita sopra, per quanto possibile. Devo dire che non rende, non rende a farvelo vedere così, ma il vetro è perfetto. Sono veramente soddisfatto di questo risultato che si è ottenuto con questo cristallo. È in plastica, ma fatto veramente bene. Sto sbagliando qualcosa? Probabilmente sì. Devo metterlo dall'altra parte. così. Vediamo. Esatto. Passiamo adesso al numero 73. Ad esempio, la collezione che io sto facendo, o meglio, la costruzione che sto facendo con Centauria, che è la casa editrice, della Lancia Stratos Livreal Italia, che ha vinto il rally di Monte Carlo nel 1976 con il pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. La macchina è la numero 10. Ecco, a differenza di questa collezione, purtroppo, il fascicolo è veramente molto povero di contenuti informativi. sia come i fotografici, sia i fotografici che proprio la scrittura. E mi dispiace, perché è anche vero che io compro il modello per chi mi piace, ma quel modello, quella storia, è stata proprio dettata e ottenuta grazie, appunto, alla parola stessa, alla sua storia. Ed è un peccato. Ecco perché vi faccio notare qui come sono ricchi questi fascicoli e fa piacere. Probabilmente molti di voi manderanno avanti veloce perché sono interessati al solo montaggio. Però, ragazzi, vi esorto invece a iniziare a leggerli fascicoli. Se vi piace l'auto, l'apprezzerete sicuramente di più. Perché i risultati che vedete, per ottenerli, come sappiamo tutti nella vita, non è così semplice. E quindi sapere come si è arrivati fa anche piacere, a mio parere. Ad esempio, molti non lo sanno, ma non riguarda solo la Citroen, ma a tutte le case automobilistiche, tanti modelli noi non li conosceremo mai perché ciò che viene costruito in Italia non viene necessariamente anche spedito all'estero e dall'altra parte tante cose che invece vengono fatte in paesi non italiani e in stati non italiani non vengono portate in Italia. Ecco qui, numero 73. Lavoriamo qui sulla portiera, l'unica che abbiamo ricevuto fino adesso, anteriore sinistra e lato guida. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono stati i prodotti particolarmente. e tutto in plastica. Guardate che bello. Questo è fisso, eh. Ho provato a vedere se si muoveva. No. Quindi non provate a farlo da qui, altrimenti rischiate di rompere il braccio. Questo ovviamente è lo specchietto retrovisore esterno e questo è quello interno. abbiamo una pellicola che è stata messa qui, però poi con un cotton fiocche io andrò a farla attaccare meglio sulla superficie sottostante. Guardate proprio il particolare. Di un unico pezzo, vedete, hanno fatto questa ripresa di colore qui cromata, molto gradevole, che simula il braccio regolatore dello specchietto retrovisore interno. I due tergicristalli. Ecco una cosa che si apprezza subito. Guardate. Adesso ve la indico. Ecco qui. e che questa fusione non è stata fatta male. Vedete? Qui abbiamo la barra in metallo, anche se il pezzo è tutto in plastica. Ma qui simula la barra in metallo e questo è il gommino che terge il vetro. E all'interno c'è il foro. Non è un pezzo chiuso, come altri modelli probabilmente avranno fatto. e è apprezzabile. Guardate che io non so se riesco a farvele vedere veramente come sono. Io ci provo a dare più luce. Proviamo. Volevo farvi vedere ma non ce la faccio anche perché se ingrandisco l'immagine o il mio movimento, anche il più piccolo, viene... un attimo... viene chiaramente amplificato, aumentato. Mi dispiace volevo farvele vedere bene. Sono fatte benissimo. addirittura si può anche vedere la parte finale che nella vera spazzola tergicristallo e in metallo con il dado. sono due semplici tergicristalli ma fatti veramente bene. Qua nella parte finale abbiamo questa verniciatura grigia. Ok. Abbiamo visto anche questo. Abbiamo anche una serie di viti. Anzi, due serie di viti. Tutte e due sono da avvitare nella plastica. Eccole qui. e ricordatevi non usate nessun tipo di lubrificante quando andate ad avvitare queste viti. Andiamo a vedere adesso il numero 74. Che! 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 poi più avanti vi farò vedere un lavoro che faccio io perché riproduco basi nella scala del modello in questo caso è una 8 e vedrete se poi ci fosse qualcuno interessato all'acquisto mi contatti privatamente vi dico subito che sono basi particolari molto eleganti però è una cosa che poi farò più avanti in maniera più completa perché tratterò anche le vetrine poi ci sarà chiaramente il contatto verso qualche azienda che le riproduce perché voglio proprio proporvi qualcosa di estremamente elegante e di qualità ovviamente abbiate pazienza se non vi è musica io non sono ancora capace di metterla però qui come dico sempre come essere in biblioteca si legge quindi silenzio assoluto mettiamola così andiamo a vedere anche questo contenuto abbiamo un pezzo in plastica che è la chiusura della griglia di ventilazione dell'abitacolo questa qua viene messa poi nella parte inferiore sotto i tergi cristalli e il parabrezza vediamo come è stata riprodotta direi benissimo sono molto contento ho sempre un po di apprezzione quando devo andare a vedere questi pezzi però guardate sapete che Michele quando c'è qualcosa che non va lo dice anche se poi le aziende risolvono il problema mandandoti il pezzo indietro come ho detto prima però bisogna anche dire questo guardate il filetto il filetto adesso è quello bianco che perfezione non c'è un'incertezza una sbavatura è fatto veramente bene qui poi andrò a consumare questi due pezzi perché sono i punti in cui è stato iniettato il materiale durante la sua formazione però è fatto veramente bene sono molto contento complimenti alla di agostini bisogna dire le cose come stanno questo vi vado a leggere subito che cos'è tappo del serbatoio della benzina mi piace questa finitura perché sembra davvero in alluminio probabilmente quello vero è in alluminio questo è tutto in plastica è noto con piacere che hanno anche ritoccato il punto dell'iniezione che è quello che vi ho fatto vedere prima con la stessa vernice in argento in alluminio molto bello e poi abbiamo due serie di viti questa e questa tutte e due come potete vedere la lettera finale è P plastica da avvitare nella plastica ricordatevi sempre mai usare lubrificanti nessun tipo di lubrificante il lubrificante anche se al silicone se la plastica non è quella giusta idrata la plastica e sotto la spinta continua della vite che è in acciaio la spezza abbiamo visto anche questo passiamo all'ultimo di questo nuovo invio il 75 vi ricordo che la collezione è composta da 110 uscite quindi siamo a meno 35 sono veramente molto soddisfatto anche di questo nuovo invio questo modellino ho fatto questa scelta perché è una macchina per me iconica un'utilitaria francese leggendaria che ancora oggi si fa rispettare e amare soprattutto sapete che c'è un mondo dietro questa un mondo piacevole per tutti gli amanti della libertà perché questo è un simbolo di libertà non so spiegarvi altro però questo è un oggetto di libertà quasi come avere un vestito ma essere completamente denudati quindi sentirsi liberi non so non saprei cos'altro aggiungere forse ho girato troppo velocemente la pagina precedente e non vi ho dato la possibilità di leggere la parte finale ecco qui sento del peso un pezzo sicuramente è in metallo che è questa barra adesso andiamo a vederla bene questo in plastica leva del cambio andrò poi a consumare questa parte qui no qui no questa fatta molto bene maniglia maniglia dello starter questo è tutto in plastica quando c'è il metallo ve lo dico questo è metallo piantone dello sterzo ovviamente non avrebbero potuto farlo diversamente ci vuole una certa forza e qui lavora a torsione e quindi deve poter resistere il metallo leva del freno a mano manopola della griglia di ventilazione questo pezzo davanti ovviamente è da togliere perché è il punto di iniezione della plastica dove poi quando levano lo stampo rimane attaccato ed è lì che veniva iniettata la plastica per poter riprodurre questo pezzo quindi andrò ovviamente a toglierlo e poi abbiamo due serie di viti anche queste da avvitare tutte e due nella plastica eccole qui bene ragazzi io direi che il video termina qui non ne penso di anzi non vi farò vedere il punto in cui siamo arrivati ma non vi preoccupate è una scelta dettata come vi ho anticipato dal fatto che ho superato già la mezz'ora di video non voglio annoiarvi spero di non farlo mai abbiate pazienza molte volte ripeto le cose non perché io sia un logorroico e parlo molto ma semplicemente perché il canale che ho scelto di aprire è un canale che ho voluto per aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini e dove se fosse necessario dare consigli per intervenire per migliorare la funzionalità o la stabilità del modello che andiamo appunto a costruire e quindi i miei video necessariamente durano di più per questo motivo non vi farò vedere adesso il punto in cui sono arrivato con il montaggio numero 70 ma andrò subito a fare il montaggio del numero 71 e alla fine lì vi farò vedere il punto in cui sono arrivato io vi ringrazio del vostro tempo un abbraccio a voi un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando iscrivetevi anche sul gruppo facebook e voi ribadisco che mi guardate ribadisco nuovamente che mi guardate ma non vi siete ancora iscritti sempre che ne abbiate piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella mi raccomando ragazzi condividete anche i miei video nei gruppi dedicati così mi darete un'ulteriore mano d'aiuto ciao a tutti al prossimo video